Un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei dispersi del traghetto sudcoreano ha fondato il 16 aprile con 476 persone a bordo e morto mentre esplorava il reddito della nave. Ha spiegato un portavoce dell'ospedale che il sub 53 anni ha cominciato ad avere problemi di respirazione a una profondità di 25 metri. L'uomo ha perso conoscenza e è stato trasportato all'ospedale dove è deceduto. Il bilancio attuale della tragedia è di 263 morti e 39 dispersi. A bordo del traghetto c'erano anche 325 studenti di una scuola vicino Seoul. L'incidente ha provocato un'ondata di sdegno nel paese. Nel suo intervento la presidente sudcoreana ha sottolineato come le cause della tragedia siano da ricercarsi soprattutto nella volontà sconsiderata del profitto. Intanto proseguono le indagini sull'incidente. Finora le autorità hanno arrestato complessivamente 19 persone tra cui 15 membri dell'equipaggio accusati di aver abbandonato i passeggeri.